Dimmi, dimmi, ok? Questa dovrebbe essere la placa, tipo una zona residenziale di passeggio, infatti questa è tutta la zona pedonale più bella della zona che ho visto ieri, che era la zona del monastero qui è più bella, perché è proprio due passi da dove stiamo noi, dove abbiamo soggiornato è più bella una però un po' più di alta qualità rispetto a quei negozietti che c'erano ieri che non dicevano niente anche qui, oddio, ci sono però c'è qualche negozio più bello Nicola, ti piace? Nicola, ti piace? Nel tuo big tummy Grazie a tutti. 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 Come fare come non fare oggi è sabato e a tutti. Non riesco a pensare cosa sia. I want to go there. You want to go there? Yeah? Pigeon. It's a pigeon. It's a pigeon, yeah. It's a pigeon, yeah. Downstairs. Upstairs. Upstairs. It's a pigeon. 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 Yeah, it's a pigeon. il mio cuore Buon appetito! Let's go! Questa è l'entrata per qualcosa Questa è un museo Cosa è? Non so, non so Non so, non so Be careful So high È molto alto Sì, è molto alto Oh, sì Non so Faccio gente che mangia Non ho capito che così È sicuramente un museo Non so Non so Un museo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.